Sono entrato all'interno della Galleria Idraulica dell'Aquidotto Vasariano, insieme e assistito dal corpo dei Vigili del Fuoco di Arezzo e insieme ai giovani del Collegio dei Gionici. Stiamo cercando il collegamento tra la Galleria Idraulica e le vasche del Palazzo di Fraternità. I giovani sono già entrati in questo cunicolo, stanno facendo il rilievo, vediamo una stanza e poi abbiamo quella apertura là che è un collegamento semi-illuminato, ecco, quel collegamento con la Galleria che prosegue verso le vasche del Palazzo di Fraternità. Quindi abbiamo trovato il collegamento che cercavamo, in modo tale che le persone entrando all'interno del Palazzo di Fraternità e dei sotterrani possano poi arrivare all'interno della Galleria Idraulica e percorrerla fino agli archi. Questo sarà fatto solo dopo l'autorizzazione del Sindaco, del Comune e della Sovrintendenza. Comunque il primo passo è stato compiuto. «Così, girato, sì, bene, metta i piedi, tutti e due con l'aiuto, vedete?» «Ecco, e vengo qua, finisci, stenda le gambe» «Sì» «Sì» «Sci la testa, si la testa» «Sci la testa» «Ok» «Vieni, dai, faccio il faro» «Prenda il piede» «Ho capito» «Farlo lo prendo io» «Ho capito» «Questa era la chiusura» «Sì vediamo che ci sono cemento armato» «Cemento armato» «Cemento armato» «Cemento armato» «Questa è la chiusura» «Sci la mia è quasi in centimetro» «La mia è quasi in centimetro» «La mia è quasi in centimetro» «Cemento armato» «E qua abbiamo un raggio locale» «Con quella parte» «Quello che è un po' chiuso» «Che è un tubo» «Quì in alto c'è un tombino chiuso da un coperto di ferro» «Cemento armato il ferro» «Se si affaccia naturalmente riesce a vederlo» «Sì» «Ave lo vedo» «Perfetto» 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 «E quest'acqua che è qui» «Il livello è uguale» «Viene dalla calota» «Della calota» «Qu'è la ripresa» «Si vede bene» «Decco qua» «Questa acqua che viene dall'Apigotto Guadaliano» «Si inserisce qui» «Entra dentro questa stanza» «E poi si riporta là» «Che senso ha questa porta» «Non si capisce» «Perché il livello è tutto lo stesso» «Il paimento è tutto fino all'altro» «E sempre sì» «C'è un po' di decriti» «C'è un po' di sporco» «Come puoi vedere» «Esce fuori» «C'è lo scalino saranno 3 cm» «Sì, va bene» «Quindi noi dobbiamo individuare questo tubo» «L'ha incrementato» «Delle l'ha incrementato» «Delle l'ha incrementato» «Delle l'ha incrementato» «C'è loозможно»